RIFLETTORI DEL PALATRENTO Riflettori del Palatrento di nuovo accesi da questo pomeriggio per Trentino Volley. A 28 giorni dall'ultimo impegno ufficiale della stagione 2015-2016, la società di Via Trainer ha ripreso gli allenamenti, dando il via ad un interessante progetto estivo che porterà in palestra la maggior parte dei giocatori under 23 che il club ha lanciato negli ultimi anni, soprattutto grazie al preziosissimo lavoro del suo settore giovanile. Agli ordini dell'assistant coach Dario Simoni si sono ritrovati 13 giocatori, fra cui anche tre della Tualerosa, Tiziano e Daniele Mazzone e Carlo De Angelis, per svolgere quattro settimane di allenamenti. L'obiettivo è di offrire ai tanti talenti di bella prospettiva e ancora di proprietà di Trentino Volley l'occasione per continuare l'attività in palestra in un periodo abitualmente privo di impegni e soprattutto per affinare qualità tecniche, fisiche e tattiche, come spiega Dario Simoni in questa intervista? Sì, secondo me è proprio un momento importante, perché si può lavorare con calma, si possono sistemare dei difetti, si possono migliorare le qualità che partengono, che sono già loro dei giocatori e poi c'è la grossa possibilità da parte mia, da parte comunque di Rado, col quale sarò costantemente in contatto, di vedere a che punto sono i nostri giocatori che sono in giro per l'Italia. Alcuni li hai già visti quest'anno perché ci sarà Daniele Mazzone, Carlo De Angeli, Stiziano Mazzone, altri invece no, però inevitabilmente li hai seguiti perché si sono fatti onori tra Serie 1 e Serie 2. Sì, i primi tre sicuramente sono quelli su cui dovremo, so già su cosa devo lavorare sostanzialmente, gli altri sì li abbiamo studiati durante l'anno, ma mi piace poter avere a che fare con loro in questo periodo. È un'attività unica nel suo genere perché nessuna società fa questo tipo di attività, è anche vero che forse poche società hanno così tanti giocatori giovani in giro per l'Italia. Sì, io e Rado ne parlavamo già quest'inverno sulla necessità di fare un periodo di lavoro, uno perché stanno fermi veramente troppo durante l'estate e poi c'è la necessità dopo per l'inizio della stagione di un grosso periodo di preparazione, riprendere tutto da capo. In questa maniera invece arrivano, non dico pronti, ma già un po' rodati. Il programma non prevede amichevoli, credo che sia stata una scelta consapevole nel senso che c'è da lavorare più che da giocare. Sì, il lavoro sarà soprattutto tecnico, quindi non è necessario fare delle amichevoli. Quindi spero si sia in numero sufficiente per poter fare del 6 contro 6 tra di noi, ma comunque non sarà l'elemento fondamentale dell'allenamento. Qualche giornale oggi ha scritto che è un mese di prova per vedere chi potrebbe far parte della nuova Trentino Volley. Da questo punto di vista ci sono prospettive? Ma questo vedremo. Di sicuro Rado mi chiederà che giocatori, secondo me, possono essere interessanti per la nostra squadra o per il futuro di questa società. Non si sa mai. Non si sa mai.